Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo dispaccio. Oggi vi parlo, come anche ieri, dal mio letto, perché è l'unica superficie che uso come scrivania e sotto legida del quadro che vedete qua sopra. Beh, è una stampa di una casa editrice sovietica, una stampa pubblicitaria che invitava a leggere di più. Ve la voglio mostrare perché oggi vi voglio parlare di che cosa vuol dire veramente in una città chiusa a tutto e tutti. Vi voglio parlare un pochino di Leningrado. Nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, poche settimane, pochissimi mesi dopo che la Germania invase l'Unione Sovietica, Leningrado fu sottoposta a un durissimo assedio. Nel corso di questo assedio durato quasi tre anni, più di due anni e mezzo comunque, 900 giorni, 900 giorni di Leningrado, una parte importante della popolazione della città è morta di fame e di freddo. Questo senza poter mai lasciare la città che era completamente cinta d'assedio. Durante l'assedio accadde una cosa interessante. Proprio nei primi mesi dell'assedio il grande musicista Shostakovich, il grande di cui vi lascio il link qui sotto. Buffamente non è una sinfonia tragica, drammatica, è una sinfonia quasi dal tono allegro. Se volete saperne qualche cosa di più sulla storia non tanto di Shostakovich, quanto della città di Leningrado, sempre qui sotto vi metto anche il link a un bel documentario, una coproduzione russa e inglese. Fa parte di una serie di, credo una ventina di puntate, 18-20 puntate, che raccontano la seconda guerra mondiale dal punto di vista dell'Unione Sovietica. È una serie di documentari molto interessanti, è in russo, con sottotitoli in inglese per cui di facilissima fruizione, almeno per chi parla l'inglese, ed è davvero ben fatta. Nel frattempo ho completato lo scialle, ho finito il bordo a pizzo, l'ho completamente intrecciato, l'ho messo in forma, penso entro qualche giorno di essere in grado di pubblicarlo. È uno scialle molto facile, adatto anche ai principianti, avrà un'opzione per un bordo a legaccio, per chi non desidera litigare con gettati e diminuzioni, ma assicuro che è più facile di quello che sembra. Appena ne avrò modo farò ovviamente indoors delle foto con lo scialle indossato, che poi saranno quelle con cui sarà pubblicato. Inoltre sto proseguendo nel lavoro del mio rib warmer, sono arrivata a completare il secondo angolo, lo vedete qui, per cui questo è un angolo, questo è l'altro angolo, e ora devo proseguire il lavoro col dietro, cosa che volevo fare ieri sera, ma non ho trovato il modello, l'ho trovato oggi, dovevo accendere il computer, perché ce l'ho sul computer? Perché è un modello che potete comprare direttamente dalla Schoolhouse Press in formato digitale. Con questo vi saluto dalla zona rossa di Milano, ci rivediamo tra qualche giorno, penso, con un altro dispaccio.